Oggi abbiamo presentato nella seduta odierna il piano di adattamento ai cambiamenti climatici per il progetto pilota dell'area industriale di Bonporto a Modena. Il piano di adattamento sarà approvato nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio nei prossimi giorni, ha completato anche tutta la sua fase di condivisione pubblica. Il progetto europeo è riferibile ai finanziamenti europei dell'IFIRIS, è iniziato lo scorso settembre, settembre 2015 e terminerà nel 2019. Oggi ho presentato quelle che sono le 13 azioni che prevede questo piano di adattamento. Di queste 13 azioni, ben 6 saranno da rendicontare e monitorare per il prossimo biennio, che è il tempo entro il quale si conclude questa prima fase del progetto europeo. Sottolineo e segnalo solo quelle che possono essere le tre principali e più importanti per me, che sono riferibili a quelle relative a un infopoint, quindi a tutto un sistema di informazione e formazione per le aziende, per applicare e attuare quelle che sono le proposte e gli indirizzi di questo piano di adattamento al cambiamento climatico delle aree industriali.